AcquaFair 2019, siamo allo stand di Gas Marine e ci troviamo in compagnia di Francesco Furia, il responsabile commerciale per l'Italia. Buongiorno Francesco e benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Raccontiamo in un minuto la storia di Gas Marine, quando nasce e come si sviluppa. La Gas Marine nasce circa 50 anni fa ed è nata per un'esigenza di offrire un supporto di gas, gas compressi, gas liquidi a 360 gradi. Nasciamo col porto, quindi fornitura a bordo nave di tutto quello che riguarda appunto gas, gas alimentari, gas tecnici, gas refrigeranti, alimentari e medicali. 15 anni fa è nato invece il brand Gas Up, da un'idea del titolare, del responsabile della Gas Marine, per venire appunto incontro a quelle che sono le esigenze nate del settore CO2 alimentare, visto in forte crescita e in grande espansione. Nello specifico, in questo appuntamento veneziano Acquafer 2019, voi esponete una ricca gamma della vostra produzione. Da dove cominciamo? Allora, cominciamo da qua, quindi da 15 anni fa Gas Up è nato semplicemente sul discorso 425, quindi una bombola dedicata ai gasatori domestici. Da lì, in questi anni, poi abbiamo ampliato la nostra gamma, abbiamo introdotto anche un prodotto nuovo di nostra idea, di nostra produzione, che ora poi racconteremo, fino ad arrivare poi ai formati più utilizzati nel settore vending, nel settore oreca, quindi formati 4, 5 e 10 chili. Quindi abbiamo una linea e una gamma completa per soddisfare tutte le richieste di questo mercato. Tuttavia, avete un prodotto nello specifico che proprio oggi state presentando qui a Venezia. Qual è? Allora, questo prodotto noi l'abbiamo appunto chiamato 3RG640, un prodotto, come dicevo prima, di nostra ideazione. 3RG perché sono appunto le 3R che sono rispetta, risparmia, ricaricami, G di gas marine, che lo scusa, e 640 sono i grammi che contiene. Un prodotto nato per venire incontro a un'idea di ecologia e di sostenibilità, per andare a offrire un'alternativa ad un prodotto non ricaricabile, attualmente presente nel mercato. Infine, qual è il vostro target? Bar, ristoranti, titolari distributori automatici? Ecco, facciamo un po' un focus di coloro a cui sono diretti i vostri prodotti. Allora, il nostro target è diretto ai distributori, quindi a tutte quelle aziende che operano nel settore vending, nel settore orecca, ma soprattutto anche nel settore domestico. Quindi compriamo tutta una gamma di prodotti per qualsiasi settore e il nostro interlocutore è appunto il distributore che va direttamente a offrire un servizio di installazione e manutenzione presso i locali o presso le abitazioni. E quindi, per tutti coloro che sono all'altra parte e non hanno avuto modo di venire qui a Venezia per incontrarvi personalmente, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcuni impegni? Allora, l'indirizzo di posta è co2-gas-app.it. Potete scrivere questo indirizzo e vi risponderemo con tutte le informazioni e i contatti che desiderate. Noi operiamo a livello nazionale ed europeo con tutti i formati e i tagli di bomba che desiderate, quindi non ci sono limiti in questo. È il momento di un po' d'acqua corretta con Gas Up. Grazie Francesco. Grazie a tutti, buona giornata.